La storia che le voglio raccontare non si trova in nessun libro. Sono storie di miserie, di tradimenti, di amori illeciti, di sentimenti. Rapiniamo, noi deprediamo famiglie. Mi dai il vomito, simonetta? Non sai che cosa sei tu? Non osate confondere i lupi con le pecore. Io sono il primo genito. Tu non sei mai stata una donna umile. È un anno che ci muoviamo per farli fuori. E parliamo di Sisto Quarto, è ben intesi. Ora spogliati. Si vinca o si perda. Noi perdiamo sempre. Beh! Quanta bella giovinezza che si fugge tuttavia. Una storia grandiosa. La grande storia dei medici. Lorenzo Ora so. Donatello. Michelano. Potticelli. Se qualcuno dei tuoi nipoti un giorno sarà Papa, sarà un nuovo rinascimento. Rinascita. Mi garbava di più rinascimento. L'arte è l'unico santo graal d'una vita eterna a chi vi si dedica e a chi la coltiva. Grazie. 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 Grazie.